Sono 35 anni che ci ha lasciato Nino Taranto, grande attore del nostro teatro. Credo che sia giunta finalmente l'ora di dedicargli nella sua forcella una strada o una piazza in ricordo della sua straordinaria arte. La proposta arriva da Gianluca Daniele, responsabile del progetto Mezzogiorno e Politiche Culturali della Fondazione di Vittorio, Istituto Nazionale della CGL per la Ricerca Storica. Daniele ha anche lanciato sui social l'hashtag Una Piazza per Nino. Antonio Edoardo Taranto, detto Nino, nacque nel 1907 proprio a Forcella, nel cuore di Napoli. Figlio di un sarto Raimondo e di sua moglie Maria Salomone, Taranto esordia da appena 13 anni al Teatro Centrale di Napoli. Ha alternato la sua carriera tra teatro e cinema. Morì il 23 febbraio di 35 anni fa. Ma ascoltiamo le parole di Gianluca Daniele. Un grande artista, cantante, autore, una delle figure, delle icone del teatro napoletano. E io credo che un po' come è successo anche per Totò, è assurdo che nonostante le richieste fatte da tante associazioni, fondazioni e dai familiari, a 35 anni dalla sua scomparsa non ci sia stata ancora da parte del Comune la dedica di una piazza, di una strada a Forcella, soprattutto nel suo quartiere, per ricordare questa grande icona del teatro napoletano. Grazie. 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 Grazie.